Ha superato la seconda notte dopo il terribile incidente stradale di martedì a Darsiero, la donna vicentina di 50 anni rimasta ferita nello scontro tra due auto, madre di Ingrid Dalsanto, la giovane di 32 anni, morta sul corpo. La sopravvissuta, ricoverata d'urgenza al San Bortolo, visti i politraumi, le condizioni critiche, rimane in pericolo di vita dopo aver affrontato un intervento chirurgico in prognosi riservata, ora assistita nel reparto rianimazione. Barbara Berlato, questo è il nome, lunedì sera intorno alle 22, era la guida di una Citroen C3 quando è avvenuto lo schianto con una Mercedes lungo la strada provinciale 350. Due veicoli viaggiavano in direzione opposta con impatto frontale che ha distrutto la parte anteriore dell'auto su cui viaggiavano madre e figlia, uscita per metà dalla carreggiata finendo nella vegetazione sottostante. Quest'ultima l'altra sera sedeva sul sedile passeggero. Per il momento non è possibile determinare la responsabilità oggettiva in merito alle cause dell'incidente mortale con il più stretto riservo dovuto in merito alle indagini. Come atto dovuto però è stato avviato l'iter per la notifica di accusa di omicidio a stradale per il guidatore rimasto illeso.